Allora meno un quarto alle sette, vediamo che ancora però non si è fatto giorno, forse siamo un po' in ritardo sulla tabella di marcia perché oggi c'è qualcuno che ti ha tirato indietro, però ci siamo, il latte è stato munto e adesso ripartiamo dalle coste per andare verso valle, a casa ti aspetta una colazione che pensiamo debba essere abbondante perché un po' di energia è stata consumata, no Nicola? E subito dopo la colazione si va in falegnameria, cosa c'è da fare in falegnameria oggi? Che idea hai in mente? Ti consigli ancora quello che i confe, cioè i seggiolai chiamavano un gaburo? Il gaburo, sì, il gardon Qui sotto c'è l'alberghiero, giusto? E fa il cade Caricato, allora andiamo alla valle Sì Sì